Salve ragazzi cari amici del web, mi trovo nel Brunei e la macchina che state vedendo adesso è quella della polizia. Loro usano mettere uno spoiler, la macchina della polizia è uno spoiler, così in questo modo in caso di inseguimento va più veloce. Serve proprio per fare gli inseguimenti.